Ola e benvenuta al podcast di Mentoring al Femminile. Gli analfabeti del futuro non saranno quelli che non sanno leggere o scrivere, ma quelli che non sanno imparare, disimparare e imparare di nuovo. Alvin Toffler, scrittore futuristico. Oggi più che mai è di fondamentale importanza avere la capacità soprattutto di disimparare. Non tutto quello che era efficace ieri per forza lo è oggi. In ogni ruolo della nostra vita, sia come imprenditrice, zie, figlie, mamme, amiche, libere professioniste, è indispensabile disimparare per poter imparare delle azioni, degli abitudini che ci permettono di avere una relazione con noi stesse e con gli altri che ci eviti sensi di colpa. Vivere in questa nuova era imprenditoriale richiede tutto il nostro impegno nella ricerca e creazione di un sistema di convinzioni che ci permetta di portare a termine la nostra missione. La imprenditrice della nuova era è guidata dalla parte spirituale che ha sviluppato e ricordato in questi anni. Ogni azione proviene dalla sua anima. Questo gli permette di creare un'armonia fra tutti i ruoli della sua vita, liberandosi così definitivamente dei sensi di colpa che l'hanno accompagnato nella precedente era. Una era che era guidata da regole dettate dalla società, soprattutto per noi donne dove lo stereotipo di genere, dove le differenze di genere ci richiudevano solo in ambiti che ci davano la possibilità di poterci spandere nel nostro ambito relazionale, cioè andare a lavorare su quello su cui si siamo più portata, quindi le relazioni, ma che nel fondo a non tutte ci rendeva soddisfatte. La consapevolezza è il primo passo per il cambiamento, trasformazione o cambiamento. Il secondo passo è avere gli strumenti che ci permettono di creare quella trasformazione. Il dovere della mente è assicurarsi che il corpo, il nostro strumento o mezzo fisico, sia protetto anfi che possiamo utilizzarlo per compiere la nostra missione nel mondo fisico, aiutarci a fare ciò che siamo venuti a fare. Il compito invece dell'anima è assicurarsi che la mente sappia sempre qual è la missione che siamo venuti a compiere e che non rimanga la mente imprigionata nel suo mondo immaginario. Ampliare la nostra realtà mettendo in dubbio ogni giorno ciò che crediamo di vedere, convinzioni, credenze è uno dei mezzi che ci permettono di rimanere imprigionati dalla nostra realtà, di non rimanere imprigionate. La autoindagazione è un ponte fra la realtà soggettiva e la realtà reale. Scavare all'origine dei nostri schemi di pensiero è fondamentale. Il cambiamento è un processo che agisce a più livelli, ambiente, comportamento, capacità e strategie, convinzioni, valori, spirito. Non sempre è possibile cambiare il nostro ambiente, ecco che si passa al secondo livello che è il comportamento. Si inizia ad essere responsabile di ciò che otteniamo come risultato nel nostro ambiente. Si potrebbe disegnare questo come una piramide, a me piace rappresentarlo come un cerchio, quindi vari centri uno dentro l'altro dove si può lavorare. Il centro proprio di questi cerchi è per andare poi fuori a spanderse con convinzione, capacità, comportamento, ambiente. Nel momento che si arriva a lavorare sullo spirito, quindi nel centro del nostro cerchio, a quel punto si comincia a spandere su tutti gli altri cerchi della nostra vita la trasformazione. Immaginiamoci quando lanciamo una pietra nel mare, ok, proprio sul bordo dell'acqua, come crea quella ondata di movimento e così succede quando si va a lavorare dallo spirito, sia di dentro sia di fuori e in ogni aspetto della nostra vita si può lavorare fuori o iniziare a fare un lavoro dentro. Questo cosa significa? Facciamoci un esempio quando si dice che la bellezza, che bisogna sentirsi bene dentro per potersi vedere fuori. Sì, è vero e è pur vero che se noi andiamo a lavorare sui due centri, il centro, lo spirito e l'ambiente, quindi la parte interiore di noi eppure anche quello che è il vestito, il truccarci, metterci un rossetto la mattina e il pettinarci e laver i capelli in ordine come ci piacciono. Quando ci vediamo all'aspecchio fa sì che tutti questi ambiti siano in armonia uno fra l'altro. Bene, io ti saluto e ci vediamo nel nostro prossimo podcast.